27, vi manda in pulsa, vi manda in pulsa, è un problema, una piotta ai 10 così, terza marcia, terza marcia, non ci sono problemi, non ci sono problemi, non ci sono problemi, vi insegno a guidare, quando il semaforo è rosso si fa così, si fa così, tac, gli imbocchi qua, gli rigiri qua, fratelli, così. Basta, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli, ho preso il muro, fratelli, ho preso il muro, fratelli, te dico fermate, fratelli, ho preso il muro, fratelli, te dico fermate, fratelli, ho preso il muro, ho preso il muro, fratelli, 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 eh sì, fratelli, ho preso il muro, dai, oggi dov'è andare così, fratelli, oggi tu vanna così oggi tu vanna così se vi siete servati la diretta siete miardati fratellino fratellino ho preso il muro non c'hanno problemi è così il 1727 è così